Oggi ragazzi è domenica e vuol dire solo una cosa, giro in moto. Oggi per fortuna girerò in strada e sarò ospite del team BOTA, così, restiamoci. Oggi per fortuna girerò in strada. Ed eccolo, il team BOTA, lui è quello dell'aspirapolvere, eccolo, vedete i nuovi giocattolini ragazzi. Ma arrivano ai 100? La sua no. Parlami della sua moto. Ti piace, è blu, bianca. Blu, bianca, c'è anche un po' di rossa. Un po' di rosso lì. Bomba! È grassa! Un po' di rosso lì. Un po' di rosso lì. Un po' di rosso lì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.